Ebbene, siamo a febbraio ed io faccio questo video con un po' di ritardo, pardon. In questo andrò a dirvi film, compresa magari qualche serie tv, che attendo di più in uscita e nel corso del 2022. Marvel. Sì, è una categoria a sé perché amo la Marvel e mi attira ogni sua opera. Quasi. Dr. Strange 2, il multiverso della follia, Thor, Love and Thunder e Guardiani della Galassia Volume 3, meno hype per Black Panther 2 però, purtroppo. Parlando di serie Moon Knight, Lycanthropus ovviamente e She-Hulk e anche, se lo ammetto, I am Groot. Morbius, forse è una speranza nascosta quella che ho, che abbiano adattato bene un personaggio così interessante quanto inquietante e profondo. Spider-Man Across the Spider-Verse, ho parecchio paura anche per questo, vedremo. Parte 1 poi, già. Lightyear, non so perché ma da quando ho visto il trailer non vedo l'ora di vederlo. Anche se so che dovrò probabilmente aspettarmi una mezza ciofeca, ma non me lo perderò. Bob's Burger, amo la serie animata e di certo non mi perderò il suo lungometraggio. Sonic 2, vedere Knuckles è emozionante, così come tutti gli altri riferimenti videoludici. Per non parlare di Jim Carrey, mi attira più questo secondo capitolo rispetto al primo. Knob, di Jordan Pell. Non so nulla sul film, anche perché non è stato ancora detto quasi nulla se non il cast, ma ho un hype assurdo, amando tutte quante le altre sue opere. Non aprite quella porta. Ennesimo remake, barra sequel, barra, non ho ben capito che cos'è. Ho visto il trailer e non sembra malaccio. Sono curioso però di ciò che può ancora offrire una saga del genere. VHS 94, sequel di una delle mie saghe horror preferite. È uscita l'anno scorso, ma lo sto ancora aspettando in italiano. Tra l'altro, se avete notizie in merito, scrivetemelo qui sotto nei commenti, grazie. Uncharted. Potrà essere uno dei migliori film tratti da un videogioco? Probabilmente, ma staremmo a vedere. Per ora però, sì, mi attira davvero molto. The Batman. È la prima volta che attendo un film della DC così tanto, trattandosi di Batman per di più. Non siamo più vivi. Zombie, studenti e Corea. Penso che lo guarderò amando il genere zombie e soprattutto le serie tv coreane, come ben saprete. Pacemaker, spin-off del film The Sizey Squad. Sembra carina e il personaggio mi piace. Diamogli quindi una possibilità. The Last of Us, la serie. Non mi convince moltissimo. Apprezzo molto il primo gioco e spero sia fedele un minimo come adattamento, quindi non me lo perderò, ma aspettative bassissime. Halo, la serie. Amo il gioco, amo Master Shift e dal trailer ho visto parecchia fedeltà ai videogiochi. E voi, quale opere aspettate nel corso dell'anno? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e per di più consigliatemi anche qualche titolo da guardare o perché no, da recuperare anche se già uscito. Grazie. Grazie.